ventiquattresima domenica del tempo ordinario la liturgia della parola di questa domenica è molto seria è una parola adulta che ci permette di fare un salto dentro la dimensione profonda del nostro rapporto con la storia del rapporto con i fatti con le cose che ci succedono la prima lettura è un brano del profeta isaia che parla di un uomo che avendo aperto l'orecchio è il servo di dio non oppone più resistenza alle cose che gli capitano e presenta il dorso e fragellatori e le guance a coloro che gli strappano la barba noi leggiamo nella settimana santa questo testo perché patentemente qui si prefigura cristo il punto è che questo uomo all'orecchio aperto e per questo sa che la storia i fatti sono nelle mani di dio perché lui dice una cosa chi chi mi dichiarerà colpevole dio mi assiste il signore mi è vicino e mi rende giustizia ecco è una percezione dei fatti collegata alla provvidenza mille volte nella vita siamo in quel bivio arriviamo a quella diramazione fidarci di dio nei fatti oppure difenderci da quello che ci succede è così che appunto questo prepara la proclamazione del vangelo di marco al capitolo ottavo quando vediamo questa doppia figura di pietro pietro che prima è capace di professare la fede e un attimo dopo è chiamato satana dallo stesso gesù perché non pensa secondo dio ma secondo gli uomini cosa vuol dire pensare secondo gli uomini avendo capito che gesù è il cristo gesù gli dice di stare zitto dice ai suoi discepoli severamente di non parlare di lui ad alcuno ma perché quando c'è una cosa così bella importante come l'arrivo del messia perché non dirlo a tutti perché non metterlo su tutti i canali perché non usare tutti i social per dire le cose buone che abbiamo da dire c'è qualcosa di discutibile in questa posizione di spargimento indiscriminato della parola perché di fatto il problema non è sapere una cosa ma incontrare qualcuno non è capire qualcosa che succede e dare semplicemente una serie di informazioni ma mettere le persone nelle condizioni di incontrare la salvezza infatti la salvezza non ha il colore di un'informazione ma all'esperienza alla pregrogativa di una croce è un luogo di morte dove conosciamo la vita infatti gesù dice il figlio dell'uomo deve soffrire molto essere rifiutato dagli anziani delle capite sacerdoti dagli scribi venire ucciso e dopo tre giorni risorgere l'ultima parola i discepoli non la recepiscono quello che ascoltano è il percorso per arrivare a quella luminosa meta l'oscuro sentiero della croce e della morte il problema è che per poterci salvare dobbiamo poter rispondere agli interrogativi più seri più stringenti più imbarazzanti che la vita ci pone stare di fronte alle cose e conoscere il sentiero di dio conoscere la strategia di dio conoscere il pensiero di dio che è il suo progetto il suo piano ecco perché pietro non pensa secondo dio ma secondo gli uomini perché lo prende in disparte e rimprovera gesù è abbastanza comico come frangente cioè pietro insegna gesù come si parla pietro dice a gesù quali sono le cose da dire e quali sono quelle da non dire mai voltato si guardando i discepoli rimprovera pietro e disse vieni dietro a me cioè gli dice ma tu mi segui o mi ti metti di taglio tu mi dici dove andare o lo dico io a te dove andare e qui è il problema quando ci troviamo di fronte all'assurdo quando ci troviamo di fronte al dolore siamo tutti tentati di giudicare quello che ci sta succedendo di non aprire l'orecchio come diceva la prima lettura e di dire questo è un errore questo non mi deve capitare e allora trasformiamo così la fede in una grande assicurazione contro gli infortuni e le nostre preghiere sono sempre solamente evitare il dolore che noi preghiamo perché i dolori siano alleviati e chiediamo umilmente come figli al padre che la nostra sofferenza sia sollevata sia lenita va bene ma il punto di fondo è fidarsi di dio lasciarsi portare perché non riusciremo mai a trovare un luogo che ci ripara dal dolore non troveremo mai un luogo dove la croce non venga a pungerci perché nel posto più recondito comunque ci sarà la tentazione ci sarà l'errore e ci sarà il male quello anche semplicemente naturale il dolore che la vita ci fa incontrare il problema è non si può vivere per non morire non si può vivere per evitare i problemi bisogna avere una risposta ai problemi e questa risposta è la salvezza di cristo questa risposta è perdere la propria vita per salvarla come dice questo vangelo è trovare in quel momento accettare quel momento in cui dio ci sta elargendo una strada di esperienza della sua potenza quel momento in cui ci sembra che la nostra vita sia smarrita in quel momento o innalziamo tutti i sistemi di difesa che non serviranno poi a molto che semplicemente sposteranno il problema oppure finalmente cogliamo l'occasione per vivere da figli nel nome del signore gesù cristo chiedendo lo spirito santo che ci fa stare nelle cose che ci succedono in maniera abbandonata in maniera affidata ecco che cosa dobbiamo spargere cosa dobbiamo diffondere un'informazione o una vita la cosa più urgente da fare è dire a tutti quello che sappiamo o vivere secondo quello che sappiamo una persona che fa un atto di fede illumina tutti quelli che hai intorno molto più di molte informazioni ricevute e poi in fondo involontariamente manipolate dal cuore perché quel che tu mi dici se non è realtà contro cui sbatto con cui io mi misuro sarà qualcosa che io prenderò secondo le mie povere categorie quello che è la mia storia le mie ferite le mie paure le mie aspirazioni i miei desideri e allora faccio entrare il signore gesù di cui tu mi parli in qualcosa che è piccolo quanto me all'estensione della mia mentalità quando invece incontro la vita nuova qualcuno che si è abbandonato a dio e ha trovato vita non l'ha persa ecco quello è un punto di riferimento parliamo decisamente troppo c'è da seguire il signore lì dove dio ci ha messo nell'occasione che oggi concretamente ci dà